Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono GabboGamer oggi andiamo a fare un nuovissimo video su nuovissimo una nuova un nuovo video un nuovo tipo di video perchè oggi siamo su FIA Games pronti per fare Mardery Mystery o Marder Mystery più che altro e vedremo un poco quante volte ci capiterà di essere innocenti allora andiamo qui come potete vedere Marder Mystery qua questa è la lobby se volete venire a giocare con noi naturalmente in certi casi potete anche giocare su questo server stesso c'è anche scritto al lato di mc.feargames.it lo scrivo anche in descrizione per chi vuole usare questo server se vi piace naturalmente allora vediamo un poco se c'è una mappa che non sia vuota tutto in corsa dobbiamo attendere il riavvio quindi ci vediamo quando si è riavviato sono ritornato vediamo un poco iniziando buono allora io non sono il Marder no apri il tizio allora questo è l'unico gioco che non lagga ho parlato sembra tipo la mappa di CSGO uguale anzi questo è CSGO questo è il Marder si vede da chilometri secondo me questo liceo è il Marder però si scoprirà nel futuro chi era daudau chi è daudau sto liceo qua no se è daudau è sto liceo qua non è il cavolo no è lui è lui è lui mi sta inseguendo la mappa no no qua ce n'era un'altra ma non c'è più eccolo no mi sa che quello è il detective boh raga non lo so daudau ecco il tizio daudau era il Marder beh non ho un problema allora non metteremo nessuna selezione automatica dai 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 no non mi fa entrare oh pure questa c'è quindi raga torno quando è iniziata sono il Marder raga non ci credo scrivo pure io sono innocente ok ok adesso vedo un po' se posso killare gente pap pap dov'è? qualcuno ha raccolto l'arco è segreto più per questo dice qualcuno ok ne ho killati già un botto però non basta le devo killare tutti se ci riesco probabilmente 10 geni monti tac 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 morto secondo me c'è un tizio che sta aspettando e dice a tutti quanti boom boom e si vince e si vince vediamo un po' se c'è un'altra partita Marder 3 Marder 5 bravo ma come esci di lì? ah è falso è falso l'assassino ha ricevuto la sua spalla lo sperano il detective è morto uuu ha assassinato il detective 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 no no era il tizio dietro di me raga era il tizio dietro di me cosa? beh ragazzi direi che per questo video può essere tutto il video vi è piaciuto e mi volete far fare altre di queste partite consigliatevi anche dei server nei commenti volendo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto in modo da non perdervi futuri video e detto questo ci vediamo alla prossima bella grazie a tutti